Il ventunesimo secolo è il tempo delle moderne tecnologie. Le tecnologie modificano il modo di fare acquisti, la comunicazione, i trasporti, quasi ogni aspetto della nostra vita. Le tecnologie aprono nuovi mercati e creano al loro interno leader di mercato sensazionali. Società enormi con un giro d'affari di centinaia di miliardi di euro. Internet ha creato il commercio elettronico. Amazon è stata la prima società a sviluppare il commercio elettronico in modo professionale ed è diventata un gigante da 100 miliardi in soli 20 anni. Il mercato della comunicazione ha creato il mercato dei telefoni cellulari. Apple ha sviluppato l'iPhone, reinventando così il mercato della telefonia mobile. In soli 8 anni, Apple è diventata l'azienda numero 1 al mondo con un fatturato annuo di 230 miliardi di dollari. Il mercato dell'estetica è il prossimo mercato soggetto a cambiamento, con un fatturato annuo di centinaia di miliardi di euro. Negli ultimi anni, i clienti si sono resi conto che le creme convenzionali non funzionano. I clienti si sono anche resi conto che le diete e le altre soluzioni offerte per perdere peso hanno fallito, con solo il 2% di coloro che sono riusciti a raggiungere e mantenere il loro peso forma. Le tecnologie di bellezza, come la Ionoforesi e la Radiofrequenza, forniscono risultati comprovati ed eccezionali, ma con un costo di alcune migliaia di euro all'anno, si rivelano molto dispendiose e quindi accessibili solo ad un numero molto limitato di clienti. Oggi, Bias presenta il Facelifter, l'iLifter e il Bodylifter, dispositivi di bellezza che consentono ai clienti di raggiungere gli stessi risultati eccezionali e comprovati di ringiovanimento e rimodellamento del corpo, nel comfort delle loro case e a solo il 5% del prezzo rispetto a un trattamento in una clinica di bellezza o con un personal trainer. L'home beauty high-tech professionale è un mercato totalmente nuovo, che offre un potenziale di vendita di centinaia di miliardi di euro e che unisce i volumi di elettronica, cosmetica specializzata e integratori. In questo nuovo mercato, Bias è leader dell'innovazione e sta estendendo attualmente il proprio business di home beauty high-tech professionale in tutta Europa per acquisire milioni di clienti con miliardi di fatturato. Ad oggi ho effettuato trattamenti con Bias a centinaia di miei clienti ed è incredibile. Ho risultati migliori rispetto alle mie apparecchiature estetiche grandi e costose. Con Bias tutti possono utilizzare le più moderne tecnologie di bellezza a casa propria e scoprire il segreto di bellezza delle star e dei ricchi. Sono convinta al 100% che il Bias facelifter e il Bias eye lifter aiuterà milioni di persone ad apparire più giovani e a sentirsi meglio con se stesse. Il tuo potenziale di guadagno con Bias Passaggio 1 Scopri la rivoluzione del business Bias diventando Bias Beauty Stylist o Bias Body Stylist in solo 4 settimane. Il programma di formazione è per te gratuito. Step 2 Offerte sensazionale per i clienti Il facelifter e il body lifter più i cosmetici specializzati selezionati e gli integratori sono disponibili a partire da soli 27 euro al mese. Passaggio 3 Guadagna fino a 500 euro con ogni cliente e da 1000 a 3000 euro al mese con solo una sera a settimana. Passaggio 4 Oppure diventa un leader locale con il Bias Success Training System per guadagnare da 3000 a 10.000 euro e oltre sulle commissioni del volume di vendita del tuo team. Passaggio 5 Puoi anche diventare leader nazionale o internazionale guadagnando una fortuna su tutti i clienti del tuo team in Europa. Il mercato dell'home beauty high-tech professionale crescerà più di quello dei computer e della telefonia mobile messi insieme. Come leader Bias potrai guadagnare la tua quota personale su questo mercato fin dall'inizio. Ottieni le informazioni adesso Frequenta uno dei nostri seminari gratuiti Startup e diventa uno dei primi leader di Bias in Europa.